È ricoverato al San Salvatore, ancora con prognosi riservata in quanto ha perso molto sangue, l'uomo, un dipendente regionale che stamane all'interno di un bagno a Palazzo Silone a Pettino, sede della giunta regionale, ha tentato il suicidio tagliandosi la gola. L'uomo si era chiuso in bagno per consumare il drammatico gesto. I colleghi, probabilmente insospettiti dall'assenza prolungata, si sono avvicinati in bagno notando tracce di sangue fuori uscite dalla porta. È stato chiamato il 118 che lo ha trasportato nel nosocomio aquilano. Non si conoscono i motivi del drammatico gesto. Sul posto è intervenuta la squadra volante della questura dell'Aquila, diretta dal dottor Di Pasquale, che sta indagando sulla dinamica.